Vogliamo occuparci adesso di due vicende di Cronaca Nera con contorni in molti casi ancora da definire. La vicenda di Saman Abbas, siamo a Novellara, provincia di Reggio Emilia, e quella invece dell'ex vigilessa Laura Zigliani. Siamo in questo caso in provincia di Brescia. Ne parliamo con Carmelo Abate, giornalista, massimo esperto di questi temi di Cronaca. Buongiorno Carmelo, grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci Carmelo, cominciamo magari dal caso di Saman Abbas, perché sono arrivate le dichiarazioni dello zio che rifiuta l'estradizione e dice che è tutto falso, nonostante però gli indizi a suo carico diventino sempre maggiori. Tutto come previsto direi, sicuramente farà l'impossibile per rifiutare l'estradizione, ma ci sarà sicuramente l'estradizione e arriverà in Italia. Sarà in silenzio, non parlerà, non ammetterà mai quello che ha fatto e non mi aspetto certo una collaborazione da parte sua. Silenzio totale. Chiaro e a questo punto a dare una mano a questa reticenza totale è l'assenza anche del corpo che continua a non essere ritrovato. Sì, è vero, ma non credo che sia un ostacolo per l'accertamento della verità. C'è un grande accusatore nei confronti dello zio che è proprio il nipote, il fratellino di Saman. Le dichiarazioni del fratellino di Saman lo inchiodano e sono certi che a un certo punto si ritroveranno faccia a faccia e lui dovrà dire qualcosa rispetto alle dichiarazioni del fratello di Saman che però sono state cristallizzate in incidente probatorio, quindi hanno un valore di prova molto forte. Ecco, cerchiamo anche di riassumere che cosa dice il fratello di Saman Abbas. Insomma, di fatto dice che ci fu una riunione per farla a pezzi, cose molto forti, molto chiare. Ci fu una riunione di famiglia in cui si decise che Saman doveva essere eliminata, una riunione di famiglia alla quale parteciparono la mamma di Saman e il papà di Saman. E la piccola, la piccola, la ragazza fu consegnata nelle mani dello zio che disse me ne occupo io, ci penso a tutto io, la faccio sparire io. Qua questa, diciamo, riunione avrebbe assistito, ha sentito, ha sentito anche le testimonianze di Saman, il fratello che per fortuna è stato rintracciato mentre era in fuga con lo zio, perché lo zio, ricordiamoci, che stava scappando dall'Italia. Se tu sei estraneo a tutti, dovrà spiegare perché è scappato dall'Italia ed è stato fermato al confine e per scappare abbandonò proprio il nipote a Ventimiglia. Quindi dobbiamo veramente attendere le prossime ore, i prossimi giorni per avere un pochino più chiarezza. Ci spostiamo adesso, Carmelo Abbate, sull'ex vigilessa Laura Ziliani. Lo ricordiamo, è stata trovata morta dopo mesi di ricerche. Le due delle tre figlie e il fidanzato di una di queste, se non di entrambe, perché poi ci aiuterei meglio a capire. Insomma, sarebbero i responsabili dell'omicidio. Man mano, giorno dopo giorno, escono delle notizie. Prima una situazione, poi ansiolitici, poi l'hanno avvelenata. Alla fine quello che conta davvero è anche il movente e casualmente di nuovo i soldi. Giuse, è agghiacciante il quadro che emerge da Brescia. Agghiacciante perché siamo abituati a delitti in famiglia purtroppo, ma raramente ci è capitato di vedere un delitto che matura, se così è secondo il quadro disegnato dagli inquirenti al momento, che sarebbe maturato in un contesto di forte premeditazione in cui viene preparato tutto nel dettaglio per un fine esclusivamente economico. Cioè, noi abbiamo vissuto in passato Enrique Omar, Maso, solo per citarne alcuni, ma c'era un'esplosione di rabbia, c'era una violenza che sfoggia, magari da un impulso. Qui c'è una fredda premeditazione, agghiacciante direi. Anche perché tutti, insomma, nella nostra mente abbiamo le immagini, i video che mettono veramente la pelle d'oca di queste due ragazze, delle tre figlie, che appunto poco dopo tutto quello che è successo, insomma, dicono aiutateci, no? Perché qualsiasi indizio può essere determinante per scoprire cosa sia accaduto alla nostra madre. Tra l'altro, questo mix di farmaci si è scoperto negli scorsi giorni, insomma, non essere stato letale, non aver ucciso questa donna. Ieri ha parlato il medico, il medico curante di Laura Ziliani, ha detto io non glielo mai prescritto, quindi resta da capire anche come se li siano procurati. Credo che ci sia un legame con il lavoro di una delle figlie e soprattutto la figlia aveva provato, perché nelle carte c'è anche, come dire, questo particolare che è un indizio molto importante. Aveva provato, conosceva, l'aveva provato su se stessa. E il video che citavi tu è fatto, diciamo, nell'immediatezza, la denuncia nell'immediatezza. È il primo, diciamo così, il primo campanello d'allarme, la prima anomalia riscontrata dagli inquirenti. Tua mamma è uscita alle 8, a mezzogiorno non c'è ancora allarme rosso, non è rientrata per un'escorsione in montagna che fa solitamente. Questo non significa naturalmente che è una prova, però se tu a mezzogiorno già sei in lacrime a denunciare la scomparsa in montagna è qualcosa di assolutamente anomalo. Improbabile. Quindi quello che per i tre doveva essere il delitto perfetto, in realtà qualche piccolo problemino l'aveva, a partire proprio da questa situazione, Carmelo. Guarda, io ho letto tutta l'ordinanza del giudice e devo dirti che è una di quelle indagini fatte molto ma molto bene, perché se noi ci chiediamo qual è la pistola fumante, qual è la prova regina, non la troviamo. Spesso pensiamo di trovarla nella prova scientifica, ma è allo stesso tempo un fattore di debolezza quando tu sei soltanto aggrappato a una prova scientifica. In questo caso io devo dirti che ci sono tanti piccoli indizi, dettagli fatti benissimo da indagine vera sul campo che ricostruiscono un quadro minuzioso e dettagliato per cui penso, penso, è una mia valutazione personale, che il quadro per i tre sia probabilmente compromesso. Sono curioso di vedere le prossime mosse dell'avvocato, perché a un certo punto questi dovranno separare i loro destini, ci saranno sicuramente responsabilità diverse, almeno materiali, e lì forse si aprirà il forte, il bello, scopriremo veramente cosa è successo. Il bello intendo dal punto di vista dell'indagine. Non c'è dubbio, Carmelo è significativo quanto ha detto la terza figlia, che ha parlato, tra l'altro, innanzitutto del rapporto che aveva con la madre, un rapporto stretto, aveva bisogno di lei, per molti motivi, e poi ha parlato di come fosse visto questo ragazzo, Mirto, il fidanzato della figlia maggiore, forse anche l'amante di quella minore. Non era visto benissimo all'interno della famiglia dalla stessa Laura. Non era visto benissimo, tanto che quando Laura arrivava in montagna, lui doveva sloggiare e andava a dormire da tutt'altra parte. La vicina di casa nota che la notte che precede la scomparsa di Laura, stranamente lui dorme a casa, ed è una cosa che non succede con la presenza di Laura. È il motivo per cui, è un altro dei piccoli indizi, per cui si è portati a pensare che Laura quella notte probabilmente fosse già sotto l'effetto di quel medicinale che potrebbe essersi procurato l'altra figlia. Assolutamente sì. E allora noi continueremo ovviamente a seguire la vicenda. Grazie a Carmelo Abbate, giornalista, autore. Ovviamente ti ascoltiamo e ti leggiamo con le storie degli altri anche sui social e sul web. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, un piacere e buona giornata a tutti.